L'audio giornalino L'italiano per te Numero 15 Maggio 2010 Il concertone del primo maggio Il giorno dei lavoratori del primo maggio viene festeggiato in Italia con un grande concerto che si svolge a Roma, in piazza di Porta San Giovanni, la piazza storica del sindacato italiano. Sono proprio i tre sindacati confederali, la CGL, la CISL e la UIL, che organizzano quello che viene chiamato il concertone, per la grande quantità di artisti che cantano e suonano su questo palco. La prima edizione del concerto risale al 1990, e da allora il numero di persone presenti in piazza è aumentato di anno in anno, mantenendosi comunque sempre sopra 500.000. Solo nelle ultime edizioni è stato raggiunto un numero di persone pari al milione. La manifestazione viene trasmessa in diretta sulle reti RAI, superando così il significato di evento politico, per diventare un evento musicale e nazional popolare al tempo stesso. Nel corso degli anni si sono esibiti sul palco di piazza San Giovanni cantanti e gruppi di grande successo, sia italiani, sia internazionali. Tra questi segnaliamo Numerose anche le presenze di artisti internazionali, che hanno suonato in collegamento video, come Paul McCartney, che nel 1993 registrò due pezzi appositamente per la festa del primo maggio negli Stati Uniti, e Bruce Springsteen, che nel 1994 cantò dal vivo la canzone Streets of Philadelphia. Essendo un evento anche politico, non sono mancati nel corso degli anni episodi che sono finiti sulle pagine dei quotidiani, come l'esibizione di Elio e le storie tese nel 1991, con una canzone sui casi insabbiati di corruzione da parte della classe politica, esibizione che venne interrotta dall'intervento dei funzionari della TV pubblica. Negli ultimi anni i rapporti tra la televisione pubblica e alcuni artisti sono diventati talmente difficili che l'edizione del 2004 venne teletrasmessa indifferita di venti minuti, in modo da poter tagliare eventuali parti non gradite. Infine nel 2007 fu uno dei presentatori, Andrea Rivera, a lanciare un esplicito attacco alla Chiesa Cattolica, per essersi opposta alla celebrazione religiosa del funerale di Pier Giorgio Welby, il quale preferì la morte all'accanimento terapeutico. L'episodio ebbe in Italia una grande eco mediatica. Fine registrazione Pag. 1